Il fornitore di sovrambito siciliacqua ha ripristinato la fornitura che nei giorni scorsi era stata interrotta a causa di un guasto riscontrato lungo l'adduttore che da San Leone conduce ai serbatoi Montelungo e Capo Soprano in territorio di Gela. Di conseguenza Caltacqua Acque di Caltanissetta, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione così come di seguito specificato in dettaglio. Ieri, lunedì 18 aprile, ripresa della distribuzione nelle aree H24 di Capo Soprano Alto e Basso, San Giacomo Alto e Basso e Fondo Iozza. A partire dalla tarda serata sempre di ieri Manfria, oggi martedì 19 aprile, Scalone Alto e Basso e Marchitello. Grazie a tutti.